Dalla puntata di Detto Fatto del 4 aprile 2018 arriva la ricetta di un dolce davvero molto goloso. Oggi vi suggeriamo la ricetta della Sacher Torte al cioccolato. Si tratta di una ricetta suggerita da Alessandro Servida. Che ne dite, ci proviamo? Ecco tutti i passaggi per preparare questa golosa torta. Prepariamo la ricetta della Sacher Torte con i consigli di Alessandro Servida da Detto Fatto. Aperta a parentesi tonda puntata del 4 aprile 2018, pan di spagna al cioccolato. 60 grammi burro, 3 tuorli d'uovo, 7 albumi, 85 grammi zucchero a velo, 190 grammi cioccolato 70 per cento Moose al cioccolato. 250 millilitri latte intero, 500 millilitri panna 35 per cento meteria grassa, 285 grammi cioccolato 70 per cento glassa. 400 grammi cioccolato 60 per cento, 300 millilitri olio di semi di girasole. Iniziamo la preparazione del nostro dolce con la preparazione del pan di spagna. Possiamo usare sia la planetaria che le fruste. Iniziamo. In planetaria o con le fruste elettriche, montiamo gli albumi a neve insieme allo zucchero. A parte, montiamo leggermente i tuorli. Uniamo agli albumi a neve, e mescoliamo fino ad ottenere un composto omogeneo. Uniamo il cioccolato fuso insieme al burro e mescoliamo ancora. Versiamo il composto all'interno di una tortiera imburrata ed inforniamo a centosettantesimo per 10-12 minuti. Sforniamo e lasciamo raffreddare. Tagliamo in modo da ottenere due dischi alti circa 2 centimetri. E adesso invece passiamo alla preparazione della mousse al cioccolato. Ciogliamo il cioccolato fondente al microonde o a bagnomaria. Aggiungiamo il latte tiepido a 45esimo e mescoliamo. Infine, incorporiamo la panna semi-montata e mascoliamo con delicatezza. Nel nostro stampo da dolce, mettiamo la mousse facendo uno strato che sia all'incirca mezzo centimetro. Spalmiamo su un disco di pan di spagna un po' di confettura di albicocche. Lo posizioniamo sulla mousse, dalla parte della confettura. Copriamo con altra mousse, e posizioniamo sopra un altro strato di pan di spagna spalmato con la confettura. Schiacciamo e congeliamo per 3-4 ore. E adesso come ultima fase di questa preparazione, ci dedichiamo alla glassa. Ciogliamo il cioccolato fondente, aggiungiamo l'olio di semi, e mescoliamo fino ad ottenere un'emulsione perfetta. Sformiamo la torta, e poi decoriamo con la glassa togliendo quella in eccesso.